ciao ragazzi ben ritrovati in questo nuovo video io sono fabrizio e quest'oggi voglio proporvi un test particolare per vedere l'efficacia delle mod su assetto corsa mi rendo conto di non aver mai affrontato il discorso cosa ne penso di assetto corsa però questo verrà presto perché sto preparando un video appositamente dedicato per il prodotto della cunos simulazioni ci metto tanto perché voglio dettagliarlo in modo più completo possibile come al solito cercando di esprimere il meglio delle mie opinioni però torniamo all'oggetto di questo video è l'efficacia o meno delle mod su assetto corsa cioè vale la pena cambiare installarle io vi propongo subito un test audio ho provato la lamborghini huracan gt3 su monza con due file audio moddati e il suono originale di assetto corsa e il suono originale dell'auto reale la 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 Grazie a tutti. 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 Vi lascio a voi l'ardua sentenza, non esitate a lasciarmi un commentino qui sotto per dirmi cosa ne pensate, un like se la proposta vi piace e se non l'avete fatto iscrivetevi, tanto è gratuito. Ci vediamo, alla prossima, ciao!